Su questo numero di A, Lella Costa risponde ad una mamma cinquantenne che pensa di partecipare alla manifestazione delle sciarpe bianche, quella di sabato 13 febbraio. Iniziativa prevista in tutta Italia, da Piazza del Popolo a Roma, Piazza Castello a Milano, da Piazza della Repubblica in Ancona a Piazza Bra a Verona. Giusto per citarne alcune. Ci saranno, dovrebbero esserci, le donne italiane stufe della meritocrazia da bunga bunga. La lettrice che ha scritto a Lella Costa sottolinea qualcosa già in parte noto. Alle manifestazioni di questo tipo vanno le madri tra i 45 e i 60. Le figlie, quelle che hanno più o meno l'età di Nicole Minetti e di Barbara Fagioli, non si sentono coinvolte dall'antico rituale. Non quanto le loro madri, almeno. E non perché condividano la gerarchia di valori di Nicole Minetti o di Raffaella Fico, per le quali, stando alle intercettazioni, comprare un appartamento da 1,2 milioni di euro e o garantirsi lo stipendio come coloradina, partecipante all'isola o consigliera regionale, vale tutto, fino all'estremo sacrificio delle serate ad Arcore. No, le 20 o trentenni italiane, molte di loro almeno, finora sembrano incerte rispetto alla mobilitazione perché in fondo non credono in quelli che la organizzano, non credono insomma nei 50, 60, 70 anni. Scrive Gea Scancarello sul giornale elettronico Lettera 43 Perché la giovane collaboratrice di Lettera 43 si dà questa risposta? Quelli della sua generazione diffidano, pensano che è colpa dei 50-60 anni se finora il merito in Italia non è stato apprezzato, se finora hanno sempre trionfato i figli di e le figlie del Bunga Bunga. Spero che Gea perdonerà quella che è una sintesi brutale. Ma mi sembra di capire che dalla diffidenza derivi l'atteggiamento passivo dei trentenni italiani e anche quel tanto di cinismo che induce le considerazioni riportate dalla lettrice di A. a Lella Costa. Sua figlia ricorda che gli adulti insegnano ad essere imprenditori di se stessi. Perché meravigliarsi dunque se Nicole Minetti interpreta il suggerimento a modo suo? Il tema secondo me interessa tutti. Più ne parliamo, più ragazze tra i 20 e i 30 anni rifletteranno se andare o meno in piazza sabato 13. E se non ci andranno ci faranno comunque sapere come la pensano. Noi siamo qui.